segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te ce ne vuole ce ne vuole però ce ne vuole non lo dico per prendere tempo per carità però noi abbiamo una presidente subito abbiamo una presidente del consiglio donna è la prima volta che cade ma si è chiamata si è chiamata fuori da sola corrado nel momento in cui ha detto chiamatemi il presidente ha fatto capire che per perduta alla causa della però lei su questa cosa si arrabbia molto lo sai perché dice che lei rifiuta rifiuta l'accusa di non fare abbastanza contro la cultura patriarcale pubblica questa fotografia di una sua famiglia tutta al femminile giambruno è stato espulso diciamo con disonore dal nucleo familiare ci sono loro insomma no e questa foto qui che cosa ti suscita che ci sono donne molto maschiliste insomma non è non è solamente una non basta essere donne per essere femministe per dirla banalmente mia madre è una donna intelligentissima di grandi meriti le ho voluto molto bene ma era profondamente maschilista e quindi voglio dire non non ce la vengono a raccontare insomma ripeto il lato costitutivo l'ingresso di meloni a palazzo chigi la prima presidente la presidente participio presente che dice chiamatemi il presidente è già un programma politico definitivo cioè non non vedo di che cosa possiamo discutere oltre per la prima parte Grazie a tutti.